Siamo di pallavolo perché ha una forma ormai ben definita il nuovo organico di Modena Volley con tanti volti nuovi, con Cuglio Velasco in panchina e solo ormai un rebus da risolvere, quello legato al settore schiacciatori, ci racconta tutto. Filippo Marelli. Il mosaico è quasi completo, quasi, perché restano ancora alcuni punti interrogativi di non poco conto da cui possono dipendere potenzialità della squadra e ambizioni stagionali. Modena Volley ha già un'identità definita. La certezza del libero Rossini. Di livello mondiale la diagonale palleggiatore opposto, tutta nuova ma di primissima fascia, con Mika Kristansson e Ivan Zaitsev, abbondante e competitiva al centro con la conferma di Oltemazzone cui si aggiunge l'altro arrivo l'azzurro Simone Anzani, fresco di triplete, supercoppa, copitaglie e scudetto con Perugia. Resteranno tutti e tre o ci sarà una partenza eccellente? L'altro nodo riguarda il settore schiacciatori. La certezza dovrebbe chiamarsi Tine Urnaut, tra i più positivi nell'ultima travagliata stagione. Poi il dubbio. Modena ha messo sotto contratto l'altro sloveno, Clemen Cebul, che a 25 anni vantaggia un'esperienza di lungo corso nel nostro campionato. Alto Tevere, Ravenna, Lube e nell'ultima stagione Milano le maglie indossate. Un talento fisico e anche tecnico, soprattutto in attacco e in battuta, sul quale scommettere per un definitivo salto di qualità che lo porti al livello dei migliori. Ma anche qualche lacuna in fase di ricezione. Carenze che avrebbero suscitato, stando alle indiscrezioni, qualche perplessità nello staff di Modena Volley. E la casella da riempire, quella lasciata libera da un fuoriclasse come Erving Gapet, merita più di una riflessione. Due le strade. La conferma dell'arrivo di Cebul, ma coperto dall'investimento su un terzo schiacciatore di alto livello. Oppure la virata, con Cebul dirottato in presto altrove, forse Verone, e la ricerca di un altro profilo di livello top. Un dilemma da risolvere in accordo con Julio Velasco per garantire a Modena una squadra in grado di lottare su tutti i fronti, dall'Italia all'Europa. Infine chiudiamo con il podismo, un altro grande successo per la RAN 530, tornata all'alba di oggi a riempire le vie del...